Espulsione dal Myanmar in arrivo per un accademico australiano, un'ex diplomatica britannica e un filmmaker giapponese, rilasciati dopo un'amnistia in occasione della giornata nazionale della vittoria. Lo ha annunciato questo giovedì la giunta militare al potere. L'ex ambasciatrice britannica Vicky Bowman, l'australiano Sean Tarnel e il nipponico Toru Kubota sono stati graziati ed espulsi in base a quanto si legge nel comunicato emanato. Insieme a loro altri 5.771 prigionieri. La decisione è un segnale di apertura da parte dell'esercito da quando è salito al potere con il colpo di stato del 1 febbraio 2021. Da allora migliaia di persone sono state imprigionate in una sanguinosa repressione.